Se tutti gli abitanti della Terra vivessero profondamente ed in modo costante nell'autoconsapevolezza cercando la verità, molte ingiustizie sociali svanirebbero. Non ci sarebbe più bisogno di produrre psicofarmaci, le ricchezze verrebbero equamente distribuite, molte malattie scomparirebbero, non ci sarebbe più bisogno di eserciti e di armi, le prigioni verrebbero trasformate in centri di aggregazione di ogni tipo e la natura verrebbe amata e rispettata da tutti. Nessuno si sentirebbe superiore all'altro, i governanti si metterebbero a servizio dei cittadini, il bimbo e l'anziano verrebbero considerati da tutti vere persone. Finirebbe lo sfruttamento capitalista sui poveri, l'istruzione sarebbe davvero garantita a tutti, svanirebbero la violenza, la soprafazione, gli abusi, i furti, gli omicidi, le offese, le calunnie. Purtroppo se tra tutti una sola persona dovesse rimanere alla superficie di se stessa, l'intera umanità ne risentirebbe. Questo ci sta ad indicare quanto sia importante il nostro singolo pensare ed agire per l'equilibrio dell'umanità.